Il calcio è strano, il Montevarchi gioca, tiene palla, conclude poco, rischia di subire la sconfitta nel primo match del 2018 al Giacomo Carbonchi di Sasso Marconi, ma alla fine una splendida punizione di Giordano Napolano riesce a risolvere la situazione e a fotografare sul giusto pareggio il match in terra d'Emilia. Senza il regista Giacomo Gorini e Meledandri squalificati, l'Aquila ritrova dopo la squalifica il giolli Simone Biaggi, il difensore Lorenzo Schiaroli. Dentro dall'inizio Migliorini e in avanti Napolano nel 4-3-1-2 varato da Atos Rigucci. Non ci sono Noselli, Cortese, Della Rocca, solo in panchina nel Sasso, dirige Virgilio di Trapani. Al quarto cross di Rossetti, inizia bene il Montevarchi, testa di Adrane e Sussi al lato di Poco. Al settimo si fa vedere Napolano, poi c'è un fallo di mano, l'arbitro ha due passi, però dice che prima è stato toccato con il ginocchio e poi ha sbattuto sul braccio il pallone. Andiamo al 26esimo, si incune a Gimà, pallonetto a lato, prende le misure al Montevarchi, la squadra di casa. Al 28esimo Pellegrini para il tiro radente velenoso di Benatti. Al 29esimo un miracolo di Pellegrini su Longhi che si era portato in avanti il capitano. Al 35esimo si rivede il Montevarchi con il sinistro di Biaggi parato. Al 36esimo Napolano non aggancia, un buon pallone. Si va alla ripresa, non comincia benissimo il Montevarchi, è più voglioso il Sasso Marconi, parata di Pellegrini su Benatti dopo pochi secondi. Ma al quinto gran punizione di Napolano deviata in corner, poteva avere miglior sorte sugli sviluppi, non arriva Rossetti. Al sesto Biaggi sotto rete costretto a defilarsi, poi l'azione del Montevarchi sfuma, sembra vicino il gol degli Aquilotti ma non è così. Entra anche Diarrasuba al 25esimo, lancia e Sussi che predica però nel deserto. Ma il calcio è una brutta bestia, al 36esimo un'iniziativa di Benatti che trova il nuovo entrato, Sanso. 1-0, Beffa per il Montevarchi e al 43esimo rischia ancora la squadra di Rigucci, va giù Galassi in area, si prosegue. Dalla parte opposta, 44esimo, Lischi al limite dell'area, anche in questo caso si sorvola su un fallo. Ma al minuto 48 in piano recupero, il gioiello di Napolano a fotografare un risultato che in fondo, per quello che si è visto, ci sta tutto. Grazie a tutti.